buongiorno amiche buongiorno amici spero che si riesca a registrare con un volume accettabile perché questo cellulare è dispettoso allora avevo già registrato ho già registrato un vocaletto abbastanza lunghetto che vi parla di un altro progetto che poi tra l'altro arriva a dove arrivo anche a chiacchierare di questo di questo pattern scusate star noterò abbastanza i pollini sono parecchi in giro oppure lo zampiero qua vicino perché gli insetti non sono amici miei manca un po e allora veniamo a noi è arrivata la buona stagione cosa si intende per buona stagione quella che ci permette di vivere all'aperto senza troppe cose addosso anche se io come vedete potete notare un bel golfetto e ci sto e ho anche le caossette di lana ai piedi però non tiro sui piedi siamo abbastanza coperte abbiamo i calzoni però si sta bene diciamo l'aria abbastanza dolce sul dolce fresco sul fresco dolce dolce perché profumata e perché anche te porosa e cosa succede quando arrivo a questa stagione allora succedono tante cose ma una tra queste è che perdo l'interesse verso le riviste di maglia allora perché non che non mi piaccia maneggiare cotone e lino o canapa ma se penso a lino e canapa penso comunque dell'abbigliamento tutto è più a degli scialli al cotone io penso alle cosine per la casa per me il cotone è stato proprio il filato del passatempo della distrazione l'ho sempre tenuto in tasca da bambina da ragazzina insomma mio sacchettino e andavo era al periodo dei pizzetti dei bavaglini da regalare dei centrini piccini piccini dei centrini belli grandini ero proprio un'appassionata e i bordi a filet i vari tizi anche abbastanza articolati non mi hanno mai spaventato gli spiegoni devo dire che ci vedeva ancora bene insomma era una sfida però ultimamente salvo fare piccole cose divertenti adesso ne voglio fare una labbia bambina ma non spoiler poi vedrete devo terminare ancora dei capi d'abbigliamento ecco poi mi passa la voglia di fare cose da indossare e per me questo era ancora il momento di fare cose indossare allora sono quasi a metà dell'opera con la maglietta da regalare a mia nipote elena che ha già compiuto credo 29 anni ho chiesto spiegazioni ma non me le hanno da credo di mi pare ci stanno sei anni di differenza tra la prima mandata abbondante la seconda insomma abbiamo cominciato con un fine 87 con la mamma delle gemelline con chiara poi è arrivato è arrivata camilla aprile 88 poi mattia maggio 88 e lì un po di pausa e poi ne sono arrivati quattro tutte in un anno poi era arrivato michele poi è arrivato francesco poi la noemi e la elena poi dopo un po' arrivata la carlotta poi dopo un altro po' arrivato filippo poi tanto dopo tanto po' sono arrivate le gemelline le ciliegine di casa e bene da fare ce ne sarebbe sempre inizia a cedere anche un po' la che stava finendo stava si terminando di mettere appunto un paio di golfini per le bimbe golfini aperti che sono tanto comodi con le bambine con i bambini perché poi noi si va all'etargo d'estate mannaggia io ci proverei anche ma mi sudano le mani faccio fatica a fare la maglia potrei fare l'uncinetto ma posso anche tessere c'è un po da spostare qualcosa qua e voglio tessere in terrazza c'è da cambiare la tenda parasole ma ci penseremo ci stiamo pensando insomma di fare una proposta al padrone di casa via perché senza su questa terrazza in estate non si può proprio stare il sole picchia sta già girando verso di me per un po' la mattina c'è la casa di fronte che ci porta riparo allora quindi cosa faccio d'estate se faccio qualcosa sono piccole cose perché io non mi preparo abbigliamento in maglia manco ad uncinetto devo dire d'estate quindi già per me maggio siamo ai limiti e ci sono però i bambini ecco fare piccole cose che anche in poco tempo centellinato anche ben suddiviso nei giorni ecco tempo poco si riescono un po' a concludere a consegnare perché proprio senza far niente non mi piace stare manco un po' però è così io amo lavorare la lana amo fare proprio i golfetti amo fare i berretti eh ma i berretti estivi li facevo eh quando avevo bottiglia e allora l'altra cosa che avviene che non mi viene da acquistare ne ho anche abbastanza con cose estive che poi ad esempio che cosa faccio d'estate d'abbigliamento faccio canote a camilla e di solito le canote me le improvviso non ce l'ho proprio sotto gli occhi però diciamo rispetto alle nipoti mi ha dato anche abbastanza senza perché devo riprendere le misure ogni volta quando devo fare un capo no questa è una fissa però mi viene così non so come siete messe voi si va bene c'è il quaderno delle misure ok però a secondo di quello che io devo fare ho bisogno di aver davanti camilla con il filato destinato al capo con l'idea di quello che voglio realizzare ma con la modella davanti a me perché guardandola sì sì le misure riesco più a ecco ho bisogno di prendere le misure cioè di definire le misure di quello che andrò a fare eh non so come spiegarvi cioè io mentre la guardo dico ok questo deve arrivare qua tra la la non mi va di fare tutto su carta senza sì dici tracci le misure non mi dicono niente ho davanti camilla vedo le spalle e allora disegno il capo che andrò a preparare destinandogli ai misure del capo quindi dove come il bordo quanto quanto agio quanto scollo quanta spalla quanto scalpo ma con camilla davanti capite che non ce l'ho tutti i giorni quindi mi limito adesso ne voglio ne devo fare una poi poi mi metto in stand by e poi voglio testere e allora visto che forse forse mi dedicherò più ai manuali d'estate che ce ne sono un bel po che voglio prepararmi a casa ecco che ho acquistato sto acquistando dei pattern buoni sempre buoni sempre buoni per tutti o quasi quindi vi ho fatto tutta una bella chiacchiera sul santa fe che poi rivedremo c'è la menù la capta menù che vai in casa non capisco perché con chi ce l'ha perché non esce e e ho comprato questo parte questi due pattern allora come e ve ne ho chiacchierato quindi nell'altro non ve sto a tediare adesso perché mi chiederò che dirò con un altro allora perciò fu e piccolo carciofo quindi carciofino non sono sott'olio ma si tratta di un bel golfino allora ecco è lo stesso identico pattern non cambia niente se non lo sviluppo delle taglie quindi carciofino abbiamo lo sviluppo taglie da 3 a 12 a 18 mesi quindi 3 6 12 18 e poi abbiamo sì carciofo e poi abbiamo carciofo ma povera bambina so perché l'ha chiamato carciofo e carciofo è lo sviluppo delle taglie ma 2 4 6 8 10 anni è così non ci sono particolari in più non abbiamo lo sviluppo della mezza manica quindi ho della manica tre quarti nemmeno della manica lunga la lunghezza è quella se volete fare varianti ve le fate perché l'ho acquistato è perché almeno diamo uno spunto alla nonna alla bisnonna è un capo carino mi piace molto il particolare della manichina corta con la maglia legaccio mi piace l'incrociatino ridotto quindi alto come un bolero perché come ho spiegato nell'altro video che poi vi passerò quando dobbiamo fare un presente nell'economia del lavoro ecco una misura di questo genere soprattutto con un incrociatino dove abbiamo quasi il doppio del filato da impiegare per i davanti il modello bolero ci fa risparmiare tempo e filato e quindi anche un buon modo un buon capo per magari dove impiegare ma anche minime quantità che ci possono girare per casa di buoni filati e anche per sviluppare modelli sulla falsa riga e divertirsi a creare delle delle varianti perché no mi piace molto la virgolina che va su mi piace il laccetto ma c'è anche l'opzione bottone è carina come costruzione si parte da dietro sembra piuttosto complicata c'è anche l'opzione senza cuciture è un capo in un unico pezzo ma che poi bisogna assemblare sotto le ascelle ma c'è la spiegazione no cuciture e che pare che sia piuttosto elaborata ma poi lo vedrò ecco io le cose le capisco poi man mano che le faccio ho bisogno di avere il lavoro sotto le mani per capire meglio quello che che poi succederà però una buona lettura ci viene incontro già prima di partire in quarta il filato adoperato è un fingari che parla spesso di questa cosa l'argomento suddivisione classificazione filati per appunto queste tipologie lo fingari di che mi piace tanto nell'america latina perché distinguono i filati con i numeri da uno in più in poi ecco quello determina chiarisce un po lo spessore del filato anche perché poi possono anche essere spessi più o meno nello stesso modo però poi comunque cambiano le caratteristiche per la pelosità l'elasticità quindi anche di bisogna approfondire andare a scuriosare bene la natura del filato tramite le foto cioè aprendo molto visto che i nostri cellulari ci danno questa possibilità aprendo molto ingrandendo molto le immagini di con questa operazione abbiamo sgamato tante cose imprecise sono gentile stamattina di un sito furbo i furbi che non mi piace sono intelligenti e chiare e oneste a quei furbi che prendono in giro gli altri ma pesa un poco comunque facendo così vi potete rendere conto di tante cose no di tutto ma di tante cose questo è un filato tinto a mano variegato allora c'è la possibilità questo modellino che mi piace tenere lì perché se devo fare un pensiero insomma ecco è proprio carino il proprio di gusto contemporaneo ma piace non devo faticare a volte mi piace mettermi lì e creare le cose mie a volte ho bisogno di cose già rodate da altri tante taglie sviluppate è ok ma piace allora traduzioni in italiano sia per uno che per l'altro ma credo di aver capito già ti mi conferma anche voi perché a volte io sono un po' di dislessica e quindi a volte nella lettura salto particolari o non le decodifico e allora la spiegazione in italiano ce l'abbiamo nei due singoli progetti quindi si può acquistare carciofino così come si può acquistare solo carciofo e lo so è lo stesso progetto di solito quando non era ancora capitata questa cosa cioè che di un progetto le le taglie sviluppate possano essere poi così suddivise in due gruppi e non lo so perché perché per noi adulti questo nome non mi era mai successo trovare questa cosa vabbè mentre e costano mi pare 4 euro l'uno che ho passato a camilla il link per acquistarmi a distanza fa lei queste cose il l'ebook che li comprende entrambi ma credo che non sia compresa la traduzione si ti prendo minu la lingua in italiano quindi se vi interessa una fascia di età sappiate fate caso andate a guardare per bene le cose minu si ti prendo minu vuole le coccole quindi ecco ho buttato un occhio tra le proposte ne dico la come avete notato non non è che più acquistato mani di fatua perché ultimamente non lo so non ahia mi non mi fai male non avevo visto cose che mi potessero attrarre forse per distrazione non lo so però quando arriva la buona stagione mi stacco un po dalle riviste e mi concentro su altro ho fatto così ho buttato un occhio vieni limina ho buttato un occhio su tutti i progetti diciamo messi da parte su raverly no i miei preferiti sono tanti sono bellissime infatti dico ma perché me devo da sbatte a pensare a qualcosa sì perché è divertente mettersi lì e dire adesso faccio io però ce ne sono veramente tanti di belli ne ho visti veramente un sacco e penso che quest'estate mi dedicherò più a ecco a scegliere qualcosa che ho messo da parte e fare un po prepararmi un po i progetti per il prossimo anno bene allora adesso vi saluto con questa cosa mi bevo un po di tè verde che si sta intiepidendo vado vado non so se si nota non ho visto ma ho qui il sacco di terra mi metto a fare balconaggio che c'è da fare una bella pulizia profonda della terrazza devo cambiare posso un po di vasi devo svasare rinvasarne altri quindi questa è la mia mattinata non so la vostra buona giornata che si fa pranzo a casa vostra io credo fagiolini no aspettate cannellini tonno al naturale e insalata diversa poi c'è anche le coste basta con oggi le finisco le mie coste piatte di bietta ecco il pranzo è servito per la cena ci penseremo buona giornata